good morning anche se direi più buonasera perché sono le quattro qui mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's january 18 2022 and it's tuesday in naples 59 at around 15 celsius and this means that non è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo almeno sempre per me non lo è invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto qualche settimana fa e capire quali sono due le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo come ripeto sempre che è impossibile ma quantomeno di combattere il freddo pratiche due pratiche che utilizzo da qualche anno per quanto riguarda il video di pensire è sempre separato da questo quindi occhio se vi interessa anyway as you just see from the window e anche da quest'altra bellissima inquadratura today we have we have se non ero per la quinta volta consecutiva those beautiful beautiful blue skies and golden sunshine golden sunshine golden sunshine really beautiful blue skies and golden sunshine abbiamo avuto perché ormai sono le quattro e la nuova farassira all along the way li abbiamo avuti bene così speriamo di continuare con questo trend nulla da dire in questi casi se avete visto il video di ieri sul cane se avete visto il video di ieri sul cane lo metto in descrizione magari nella scremata finale e se avete visto il video di ieri sul canale è 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 il Veramente bellissimo poi, cielo azzurro, guardate veramente bellissimo, cielo azzurro, che cieli azzurri? And finally, from a mythical keyboard, the Amadi GX 640, IPG, IPG 625 Have a great day, him, all the people, follow the channel, the reports, si, un saluto veramente a tutti Mi raccomando, il video di sui pensieri abbiamo già detto all'inizio, separato da questo, nel caso So again, have a great day, him, all these people, and everyone too